Reggio Calabria, bomba in procura, quattro gli arresti ma al momento nessun movente. Reggio Calabria 15 aprile 2011. Antonino e Luciano Lo Giudice, nel loro tentativo di contattare due personalità istituzionali con l'obiettivo di salvaguardare i loro interessi criminali, hanno sempre trovato porte chiuse. E quanto ha affermato nella conferenza stampa svoltasi oggi in questura il procuratore capo di Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo, titolare delle indagini sull'attentato del 3 gennaio 2010 agli uffici della procura generale di Reggio Calabria, dell'attentato di Namitardo all'abitazione del dottor Salvatore Di Landro, procuratore generale, nell'agosto 2010 e il gravissimo atto di intimidazione di cui fu oggetto lo stesso procuratore capo di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone, quando su mandato degli stessi Lo Giudice fu fatto ritrovare un bazooka nei pressi del centro direzionale di Reggio Calabria che ospita la procura distrettuale antimafia. Le personalità a cui ha fatto riferimento il procuratore Lombardo sono il sostituto procuratore nazionale antimafia Alberto Cisterna ed il sostituto procuratore generale di Reggio Calabria Franco Mollace. I due magistrati, il primo in servizio alla procura nazionale antimafia e il secondo alla procura generale di Reggio Calabria, non sono indagati. Probabilmente, ha detto Vincenzo Lombardo, i Lo Giudice avevano male interpretato la natura di alcuni rapporti pregressi agli attentati con i due magistrati. Le indagini sulla Cosca, lo Giudice, avevano tra l'altro portato all'arresto, nell'autunno scorso, del proprietario di un piccolo cantiere navale di Reggio Calabria, Teodoro Spanò, presso cui alcuni magistrati per un certo periodo di tempo, negli anni scorsi, avevano custodito le loro due piccole imbarcazioni. La questione vera, ha detto ancora il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, è che Antonino e Luciano, lo Giudice, dopo alcuni provvedimenti di sequestro e confisca dei beni da parte della magistratura di Reggio Calabria, per un controvalore di circa 10 milioni di euro, avevano avviato una sorta di vendetta contro i magistrati e le forze dell'ordine, che loro ritenevano responsabili di questi provvedimenti di prevenzione.